Diamanti rientra, prova con il destro, poi con il sinistro, poi con il cross, dentro! Davidevi, Tavano! Tavano! Il gol di Tavano! Livorno in vantaggio, Tavano! Bergvold, il cross, arriva Diamanti al volo! Diamanti! Super gol di Diamanti! Tutti in piedi per Diamanti! Danielevicius, Bergvold, Bergvold sinistro! Bergvold, 3-0! Partita praticamente chiusa! Il Livorno viaggia veloce verso la Serie A!